Le parole pedofilia e pedopornografia risultano a volte difficili anche da pronunciare, perché rimandano il pensiero a violazioni nei confronti delle persone tra le più vulnerabili e degne di attenzione. Ogni violenza, ogni danno subito durante l'infanzia e l'adolescenza è un dolore per tutti. La rete ci connette agli altri e diventa talvolta il luogo della produzione, dello scambio e della diffusione di immagini di abuso sessuale su minori. Solo nello scorso anno la polizia postale delle comunicazioni si è occupata di più di 4.600 casi di addescamento e pedopornografia online. La Polizia di Stato previene e combatte ogni rischio online per i minori attraverso il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online ed il supporto psicologico dell'Unità di Analisi del Crimine Informatico ed offre ascolto e aiuto con il commissariato di PS online ogni giorno 24 ore su 24, con l'impegno di uomini e donne e anche con la collaborazione di tutti voi. Quando sei in rete ricordati che quella che vedi non è solo una foto. Non è solo un attimo di innocenza rubato per sempre, in qualche angolo sperduto nel mondo. La pedopornografia è un crimine grave. Non scrollare oltre. Segnala, denuncia e aiutaci a proteggere i più piccoli. Sempre.